ciao ragazzi bentornati su hardlock cripto in questo video parleremo di un argomento fondamentale si sente spesso dire nelle cripto not your keys not your coins quindi andremo a cercare di scegliere quali sono i migliori wallet che fanno al caso nostro è una decisione estremamente importante che dovete prendere da caso a caso stiamo vedendo il video di exodus wallet che ve lo dico subito è uno dei wallet che consiglierò a in questo video naturalmente quindi andremo a vedere quali sono le caratteristiche che devono avere i wallet devono essere sicuri devono avere un'interfaccia user friendly pulita bella da vedere deve essere ovviamente gratuito magari un servizio clienti eccetera come ad esempio questo exodus wallet che state vedendo adesso quindi andremo a vedere per la precisione i miei tre wallet preferiti quelli che consiglio a tutti vedremo i punti di forza i punti di debolezza prima di andare avanti devo ricordarvi che tutto quello che verrà detto in questo video non rappresenta assolutamente un consiglio finanziario dovete sempre fare le vostre ricerche non fidarvi assolutamente di nessuno partiamo dalle cose da non fare mai ovvero lasciare le coin sugli exchange se non si intende ovviamente fare trading comprarle e venderle eccetera quindi fondamentale e la gente che arriva qua la gente nuova che arriva in questo settore compra e lascia sull'exchange cosa da non fare assolutamente se lasciate le coin sull'exchange non avete il controllo assolutamente delle vostre cripto quindi abbiamo visto l'ultimo caso ftx in questo caso addirittura l'exchange ha rubato le cripto mettiamola così ragazzi semplifichiamo invece nel caso più famoso precedente mt gox è stato hackerato quindi ovviamente le coin le cripto sugli exchange sono bersaglio continuo degli hacker ovviamente quindi è un rischio che si prende continuamente e come lasciare partiamo subito ragazzi e cominciamo da exodus wallet questo è il wallet ragazzi che consiglio a tutti quelli che iniziano in questo mondo perché è molto semplice da usare ha un'interfaccia molto comoda sicuramente intuitiva anche bello da vedere e quindi è un wallet che consiglio assolutamente a tutti quelli che hanno appena cominciato quando uno diventa magari più esperto più esigente e ha delle richieste particolari in più sicuramente ci sono altri wallet in giro anche se devo dire che questo wallet rimane comunque piuttosto sicuro è in giro credo dal 2017 già ne sentivo parlare parecchio di questo wallet andiamo a vedere che caratteristiche ha allora exodus wallet è un wallet ovviamente bitcoin e supporta 260 cripto veramente tante non migliaia ma comunque le principali se non volete proprio delle alcune esotiche molto probabile che le trovate qui su exodus è disponibile come estensione del browser quindi per capirci in stile metamask e quindi permette di gestire anche gli nft disponibile su mobile su android su ios e si può anche scaricare come applicazione per desktop l'interfaccia l'ho già detto il motivo principale per cui consiglio questo wallet che l'interfaccia è intuitiva qua vedete le schermate della versione mobile vedete anche bello da vedere c'è un tracker che permette di seguire il proprio portafoglio il che non è male assolutamente così potete vedere qual è lo stato delle cripto che avete su quel wallet assolutamente positivo le coin disponibili sono queste stavo dicendo appunto 260 potete vedere tutta la lista se volete questa è la l'interfaccia della versione desktop vedete anche questa molto bella potete tranquillamente fare anche degli swap interni all'app anche su mobile ovviamente quindi c'è un exchange interno supportato da exodus il che è comodo se uno deve fare uno swap poi ha delle features veramente interessanti come la possibilità di andare a verificare di mandare a un indirizzo corretto quindi prima di mandare delle cripto va a verificare che l'indirizzo sia almeno esistente che sia corretto il che non è assolutamente male sono anche disponibili delle daps come ad esempio compound nativamente dentro exodus il che è comodissimo ed è possibile fare staking qua vedete alcune coin disponibile per lo staking solana algoran cosmos cardano eccetera quindi questa funzionalità sicuramente può essere utile per una persona che non vuole grossi problemi non vuole diciamo uscire dall'ecosistema del wallet inoltre cosa da non sottovalutare per un wallet gratuito il servizio cliente avete chiaramente le domande più frequenti ma potete anche rivolgere delle domande in qualsiasi momento al servizio clienti che sicuramente vi aiuterà andiamo qua su support ultima cosa ciliegina sulla torta l'integrazione di exodus con trezor quindi possiamo avere assolutamente l'interfaccia di exodus e i benefici di trezor come hardware wallet uno dei migliori in circolazione proprio uno dei primi hardware wallet ormai una tradizione il mondo cripto ragazzi dal 2016 trezor è in circolazione con legger ed è praticamente il miglior hardware wallet in circolazione almeno come reputazione potete collegare il vostro trezor ad exodus e quindi avere il meglio dei due mondi l'interfaccia bellissima di exodus e utilizzare la sicurezza offerta dall'hardware wallet ma solamente trezor sia in versione one che il modello t c'è un video vi spiegano tutto come si fa qui sul sito ed è molto molto semplice come lati negativi ragazzi c'è questa qua del modo per recuperare i fondi nel caso perdete il wallet eccetera quindi come recovery abbiamo anche la mail che a me non piace particolarmente anche perché se la vostra mail viene compromessa allora è compromesso anche il wallet questa cosa non mi piace tanto e non c'è la non è possibile mettere l'autenticazione a due fattori appunto come sicurezza in più per chi è ci tiene alla privacy non è il top questo recovery con la mail prossimo wallet che andiamo a vedere è atomic wallet appunto che stiamo vedendo qua all'interfaccia in questo video che hanno messo su youtube vedete l'interfaccia pulita essenziale è possibile fare appunto degli atomic swap tra diverse cripto supportate da questo wallet che sono parecchie sono più di 200 cripto valute anche qua le principali e ha alcune features molto interessante soprattutto per chi è amante della privacy perché le chiavi private non lasciano mai il device dell'utilizzatore quindi sarete gli unici possessori delle vostre chiavi private hanno anche un loro token proprietario che serve per lo staking per dare dei benefici anche addirittura un cash back andremo a vedere tra pochissimo ecco qua ragazzi più di 300 cripto valute supportate è decentralizzato anonimo sicuro quindi oltre 4 milioni di persone utilizzano questo wallet fondato da charlie shrem piuttosto famoso nella comunità cripto internazionale questo wallet è molto apprezzato soprattutto per chi è appassionato di privacy i benefici offerti da questo wallet sono appunto la possibilità di swappare internamente gli asset direttamente dal wallet quindi fare staking quindi fare staking di diverse cripto valute vedete qua quanto potete guadagnare con lo staking anche del loro token proprietario atomic wallet token non voglio assolutamente consigliarvi il loro token dopo ne parliamo e vedete l'interfaccia con la quale potete gestire il vostro portafoglio c'è un servizio clienti anche qua disponibile 24 ore su 24 sette giorni su sette che non è assolutamente male per un wallet gratuito tutti questi sono gli asset supportati veramente tanti disponibile praticamente per qualsiasi piattaforma quindi windows mac linux google play l'app store e naturalmente android quindi potete anche scaricare la pk android e installarlo ad esempio su un telefono che non utilizzate più e quindi poter avere un'esperienza totalmente offline con questo wallet che è fantastico è possibile tra le altre cose acquistare cripto valute anche con carta di credito direttamente dall'interfaccia del wallet vedete qua con carta di credito e partecipare al loro programma di cashback praticamente ogni volta che si fa uno swap si può arrivare addirittura l'un per cento di cashback che viene restituito questo cashback nel loro token proprietario a wc a seconda di quanti a wc ci sono vari livelli si possiedono e si mettono in staking si otterrà un livello di cashback diverso senza il loro token si avrà comunque un 0 25 per cento con un limite mensile di dollari che si possono ottenere col cashback gratuitamente 150 dollari al mese che sono un bel po di soldi al 0 25 per cento di cashback quindi vedete voi c'è questa qua che è una cosa in più non è il motivo prioritario per cui uno deve scegliere questo wallet ovviamente quindi privacy staking cashback interfaccia pulita tranquilla questa un'ottima opzione apprezzata veramente da tanta gente ultimo wallet che andiamo a vedere oggi ragazzi ma non l'ultimo per importanza anzi lo uso ultimamente quotidianamente trust wallet lo uso praticamente come il portafoglio come dire l'hardware wallet è la banca e trust wallet per quanto mi riguarda è il portafoglio ora dipende da voi se girate con 10 mila euro in tasca vedete voi che tipo di accortezze avere questo è l'uso che ne faccio io trust wallet è secondo me il migliore è il mio preferito è stato praticamente costruito col supporto di binance viene fuori dall incubatore binance labs trust wallet è prima di tutto gratuito disponibile per ios android c'è anche un'estensione per il browser per quanto riguarda appunto le dabs e il web 3 supporta gli nft è open source cosa da non sottovalutare assolutamente è possibile fare lo staking c'è un dap browser disponibile anche da mobile si possono comprare le cripto direttamente l'interfaccia del wallet è il wallet ufficiale di binance primo exchange al mondo cosa da non sottovalutare assolutamente e quindi secondo me è il miglior wallet per chi desidera un'esperienza mobile andiamo a vedere che cosa succede ragazzi ci sono tutti i token praticamente 4,5 milioni di asset supportati 65 blockchain assolutamente fantastico nft eccetera tutto su questo wallet naturalmente gli nft sono supportati quelli rc 721 rc 1155 su ethereum e su b bnb chain naturalmente andiamo a vedere anche la sezione staking c'è anche un calcolatore qua sul sito ma non è questa la parte importante qua vi parla dei benefici dello staking eccetera per ora è possibile mettere in staking le seguenti coin non sono tantissime ragazzi ve lo faccio vedere sul cellulare vedete face id naturalmente cosa succede che io sposto i fondi da trust wallet alla mia carta preferita sapete che utilizzo la crypto.com piuttosto che binance o anche la binance card utilizzo anche curve eccetera quindi sposto i fondi dal wallet alla carta per poterli spendere in giro quindi questo è un utilizzo che faccio io è molto importante il riconoscimento facciale quindi sicurezza biometrica per questo wallet disponibile quindi su iphone ma anche su android come stavo dicendo ve lo faccio un po vedere abbastanza intuitivo ragazzi inviare ricevere compra e scambio potete scacciare scambio e fare un exchange in qualsiasi momento posso sull'app ma a qualcuno magari questa funzionalità può servire andiamo a vedere anche la parte sottostante abbiamo discover con la possibilità di utilizzare alcuni servizi come maker compound ave naturalmente i servizi della binance chain alpaca eccetera e le principali daps della defy abbiamo curve year finance uniswap eccetera cliccando su vedi tutte naturalmente ce ne sono molte di più perché ovviamente se andiamo su smart chain e clicchiamo vedi tutte ovviamente abbiamo tutti i servizi più importanti della bnb chain quindi venus pancake eccetera ragazzi tutti i servizi che volete e posso utilizzarli qua direttamente dall'app vado su cake posso fare comprare dei token posso fare uno swap senza problemi e naturalmente supporta anche gli nft se vado su nft in questo momento non ne ho però potete utilizzare anche gli nft con questo wallet piuttosto comodo secondo me ragazzi fate un po quello che volete a livello di sicurezza ci sono le 12 parole potete naturalmente implementare alcune funzionalità di sicurezza aggiuntive andando su impostazioni cliccando su sicurezza ad esempio vedete che in questo momento l'ho tolta appositamente per mandare una transazione richiede l'autenticazione ora lo rimettiamo e quindi è necessaria sostanzialmente la mia faccia per poter autenticare un prelievo da questo wallet in questo momento quindi piuttosto sicuro e fate voi non mettete delle cifre devastanti ma potete tranquillamente utilizzare questo wallet anche offline su un telefono ad esempio che non utilizzate tutti i giorni per andare in giro questo è quanto ragazzi vi ho fatto vedere anche trust wallet sul mio cellulare che utilizzo appunto in questa ultima fase piuttosto travagliata che abbiamo vissuto è sempre più importante utilizzare un wallet e magari anche più di uno come dicevo l'analogia del portafoglio e della banca è un po come faccio io utilizzo vari hardware wallet per differenziare naturalmente ma anche appunto wallet gratuiti quindi fatemi sapere naturalmente nei commenti cosa ne pensate se volete approfondire eccetera vedremo probabilmente qualche altro video sui wallet che sono più che mai di attualità qualche hardware wallet eccetera nelle prossime giorni settimane come sempre se apprezzate questi contenuti disintegrate il tasto like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto tutti i nostri social sono naturalmente in descrizione e come sempre alla prossima sempre qua su hard rock crypto